Contromano a folle velocità in via del Castagno per sfuggire alla polizia si schiantano contro due auto. Rapina mano armata in una tabaccheria di Montemurlo, in manette tre persone. Case Passerini, il Consiglio di Stato boccia il nuovo inceneritore, la parola fine commenta il governatore Rossi. Carlo Verdone al Castello dell'Imperatore, ecco il programma della Prato Estate 2018. Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 20 e 30. Guida Contromano a folle velocità a un furgone rubato per sfuggire alla polizia. Il conducente provoca un incidente e viene arrestato. È successo questa mattina in via del Castagno. Vediamo. Inseguiti dalla polizia hanno imboccato Contromano via del Castagno rischiando il frontale con un'auto che procedeva nel regolare senso di marcia e ha sterzato bruscamente riducendo la portata dell'impatto. È successo questa mattina verso le 11. I fuggitivi, due persone a bordo di un furgoncino rubato, procedevano a forte velocità per sfuggire alle volanti della polizia che li stavano inseguendo quando hanno imboccato Contromano via del Castagno. In quel momento passava una Seat con a bordo tre persone. Il conducente si è visto arrivare incontro il furgoncino e con prontezza è riuscito ad evitare l'impatto frontale. Non essendoci spazio per due veicoli, il furgoncino si è letteralmente incastrato tra l'utilitaria e un SUV in sosta. Che cosa è successo? Nulla, si è visto sbugare la polizia. La polizia con questa macchina che seguivano si è finita addosso e si è rimasta incastrata. Tutto lì in un attimo. Capisce? Il furgone procedeva velocemente? Ma io devo accento allora e la polizia aveva il culo a parole povere. Ecco tu. Poi cosa è successo? Hanno tentato di scappare queste due persone? Hanno tentato di scappare, l'hanno ammalettato e ci siamo ritrovati. Grazie a Dio non ci hanno preso frontale che se ci prendono frontale ci ammazzano. Per la velocità ci ammazzano. Il passeggero del furgoncino ha provato a fuggire a piedi ma è stato prontamente acciuffato dai poliziotti, mentre il guidatore è rimasto intrappolato nell'abitacolo, impossibilitato ad uscire. Entrambi sono italiani, pregiudicati e sono stati portati in questura. Il conducente è stato poi arrestato per furto e resistenza pubblico ufficiale. Il fiorino era stato rubato stamattina alle 9 in Sant'Orsola ed è stato intercettato due ore dopo dalla polizia. Due degli occupanti dell'utilitaria incidentata sono stati portati in ospedale fortunatamente con ferite lievi, codice giallo per una donna di 54 anni, codice verde per un uomo di 70. Gravi danni sono stati riportati anche dall'auto in sosta, come racconta il proprietario. Il mio è un bel danno. La sua macchina aveva la sola colpa di essere parcheggiata in sosta. Parcheggiata a 20 cm di marciapiede, sui marciapiede. È un brutto episodio. È un brutto episodio perché lo schianto è stato forte, si era intribato in noi e si è sentito al boom. Sul posto è giunta anche la polizia municipale per regolare il traffico. L'ultimo tratto di via del Castagno è stato chiuso e i veicoli sono stati deviati verso via Ferrarini con code conseguenti nella zona di via Zarini. E come abbiamo detto il furgone era stato rubato un paio di ore prima in via Sant'Orsola ad un artigiano che era sceso dal veicolo per facilitare la manovra di un altro mezzo al lavoro. Ai nostri microfoni dice è successo tutto in pochi secondi. Il ferrino l'avevi lasciato per un momento incustodito e ti sentivi tranquillo? Tranquillissimo, via, senso di marcia unico, non c'era nessuno in centro a Prato, poche persone, scuole ormai già entrate, erano le nove. Il tempo di parcheggiarlo, fermarlo, motore acceso, chiave attaccata, sportello aperto, fare manovra, non c'era più. Un sogno, un incubo, non un sogno, un incubo. A questo punto ci sono anche i danni perché nell'incidente il furgone si è molto danneggiato? Molto, molto. Io ho anche le foto fatte da un amico, più che quelle che ho fatto ora io in carrozzeria. Ma i danni materiali si possono anche rimettere a posto, però quelli morali perché a me oggi la giornata mi ha molto colpito. Anche perché dentro il fiorino io avevo tutta la mia vita, ho una borsa con la mia agenda, le mie cavi di casa, i miei documenti, il mio portafoglio, i miei preventivi, le mie fatture, perché il fiorino ormai, io sono un piccolo artigiano e ho questo piccolo ufficio dentro il mio mezzo. In un secondo, in un minuto perdere tutto, anche se io ho tre figli, una famiglia, sapere che le chiavi potevano essere state messe in mano a qualche persona malintenzionata, che poteva trovare benissimo il mio indirizzo tramite il mio portafoglio e i miei documenti non era una cosa molto molto spiacevole, anzi molto spiacevole. Rapina a mano armata ieri sera ai danni di una tabaccheria di via Montalese a Montemurlo, arrestati dai carabinieri i presunti autori del colpo. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nel corso delle indagini sulla rapina messa a segno ieri sera ai danni della tabaccheria Cesarini in via Montalese a Montemurlo. Si tratta di una coppia di fidanzati residenti appoggio a Caiano e di un terzo individuo rintracciato a Massacarrara, sospettati di essere gli autori del colpo. Nell'abitazione dei due fidanzati, un uomo di 60 e una donna di 42 anni, fermati stanotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Prato, è stata rinvenuta parte della refurtiva a denaro, biglietti della lotteria e gratte vinci. Altra refurtiva è stata trovata in possesso dell'uomo fermato a Massacarrara. I militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato anche la pistola a salve utilizzata dai banditi durante la rapina, messa a segno ieri sera intorno alle 20, quando il titolare della tabaccheria stava chiudendo. Ad agire sono stati due banditi a volto coperto che hanno minacciato il titolare con una pistola. Probabilmente i due hanno potuto contare sull'apporto di un complice che faceva da palo all'esterno della tabaccheria. Casa e Passerini, il Consiglio di Stato boccia il nuovo inceneritore. Il Presidente della Regione Rossi annuncia un nuovo piano dei rifiuti che ridurrà gli impianti di incenerimento e le discariche. Prima della pronuncia dei giudici, il Comune di Prato aveva definito prioritario l'impianto. Il nuovo inceneritore di Casa e Passerini a Sesto Fiorentino non si farà. Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, annullamento che era stato disposto dal TAR nel novembre 2016. Nella sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa è sottolineata la mancata realizzazione di uno dei principali interventi di mitigazione previsti, la piantumazione di un'area di circa 20 ettari destinata a Boschetti in un parco periurbano di circa 35 ettari, compresi nel parco della Piana. La sentenza sancisce l'impossibilità di procedere oltre con la realizzazione dell'impianto e afferma che la nuova evenienza determinata dal progetto aeroportuale avrebbe imposto una complessiva rivalutazione della situazione ambientale e sanitaria della Piana. Il presidente della regione Enrico Rossi si dice soddisfatto della parola fine messa al termo valorizzatore di case Passerini e si dice pronto a predisporre un nuovo piano dei rifiuti che accrescerà la raccolta differenziata e il riuso riducendo gli impianti di incenerimento e le discariche. Per il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi la sentenza del Consiglio di Stato conferma la bontà delle nostre posizioni basate sul buonsenso prima ancora che sul diritto. Intanto questo è saltato, commenta con soddisfazione il coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia che prosegue la battaglia legale contro l'ampliamento di Peretola. La notizia della definitiva bocciatura dell'inceneritore di case Passerini avrà ripercussioni anche a Prato. Più volte nei mesi scorsi il sindaco Biffoni e il vice sindaco Faggi avevano definito il progetto prioritario per dare una risposta al territorio pratese alle prese con una grave emergenza nello smaltimento dei rifiuti. L'amministrazione comunale aveva appaventato il rischio concreto di un ulteriore aumento di costi e tempi di smaltimento in assenza di nuovi impianti visto il saturamento di quelli esistenti. Lega e 5 Stelle pronti a governare PD e Forza Italia scettici. Sono queste le prime reazioni anche a livello locale sull'incarico dato a Giuseppe Conte pronto a formare un nuovo governo targato Lega, Movimento 5 Stelle. Da una parte Lega e 5 Stelle che non nascondono la soddisfazione per il nascituro governo e annunciano eventi di cambiamento. Dall'altra PD e Forza Italia che prendono le distanze e già preparano una ferra opposizione. Anche a livello locale l'incarico dato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Conte di formare il governo fa discutere con Lega e Movimento 5 Stelle che si dicono pronti per guidare il paese. Secondo noi sarà la volta buona di un governo di cambiamento, sarà difficile perché poi inizieranno a darci contro. Penso il primo anno sarà molto complicato anche da un punto di vista mediatico però assolutamente non ci fermeremo, non ci siamo mai fermati, andiamo avanti e i cittadini vedranno quello che veramente siamo capaci di fare. Questo sarà un governo di cambiamento e di orgoglio. dovremmo fare partire appunto l'economia per avere più lavoro e abbattere il debito. Quindi più lavoro, più sicurezza, più famiglia e più figli. Vogliamo fare quello per cui siamo stati votati, mettere al primo posto i cittadini italiani. La Vito ha poi precisato che l'Alleanza di governo non avrà riverberi per le prossime amministrative alle quali il Movimento vuole presentarsi in autonomia, escludendo l'Alleanza a livello locale con la Lega. Sul fronte dell'opposizione il PD pensa che Conte sia solo un burattino nelle mani di Salvini e Di Maio e che il contratto di governo sia pieno di proposte realizzabili. La cosa che mi preoccupa un po' della figura di Conte è che non ha né esperienza né peso politico significativo e quindi rischia di essere semplicemente un burattino nelle mani di Di Maio e di Salvini. Le cose che hanno detto di voler fare sia in campagna elettorale sia nel loro contratto di governo sono proposte che noi riteniamo non attuabili, senza copertura economica. Caustico anche il parlamentare di Forza Italia Giorgio Silli, per il quale il governo avrà vita breve. Silli ha già annunciato che non voterà la fiducia. Mi dicono che il presidente del Consiglio incaricato, Conte, sia persona di grande spessore di grande preparazione culturale, però insomma se si parla di mele non si può parlare di pele, sarà un grandissimo professore, ancora nessuno sa se può essere anche un grande presidente del Consiglio o un grande politico. In bocca al lupo io credo che tra sei mesi saremo qua a fare la stessa intervista e già avremo i risultati di questo primo semestre di governo. Siamo andati al polo di Novoli a Firenze dove insegna il professor Conte per raccogliere pareri e impressioni degli studenti che lo hanno avuto come docente. Ha una dose molto magnetica vogliamo dire, è un bravissimo professore, serio e bravo. È un bravissimo professore e poi è molto bravo anche nello spiegare, nell'intrattenere proprio la lezione. È vero che a lezione arrivava un po' in ritardo? Sì, un pochino. Lo descrivono come un docente serio, attento, preparato, appassionato, forse un po' ritardatario a lezione, ma tutti gli studenti di giurisprudenza del professor Giuseppe Conte al polo di Novoli di Firenze sono concordi su un punto. Mai avrebbero immaginato di assistere all'escalation politica, effetto sorpresa, del docente di diritto privato dell'Università di Firenze, incaricato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, di formare il nuovo governo. Non me lo aspettavo e anche a lezione non l'ha mai manifestato, comunque appunto anche solo interessamento alla politica. No, lui di politica almeno in ambiente universitario non ne fa mai menzione, mai tirato fuori. Da giorni a Novoli non si parla d'altro, di quel professore carismatico, severo ma gentile, a cui sono state affidate le redini per la guida del paese. Del presunto curriculum gonfiato dell'avvocato Conte, fiorentino d'adozione, pare interessare a pochi. Il premier in pectore, designato da Movimento 5 Stelle e Lega, viene difeso a spada tratta dai suoi universitari. Ma secondo me sono molto pensieri mediatici dei giornalisti, da prendere un po' con le pinze sinceramente, perché è sempre stata una persona onesta e ci ha trasmesso sempre la sincerità e un buon approccio al diritto e alla verità delle cose. E intanto si pensa già alle responsabilità che il premier incaricato dovrà affrontare nelle prossime ore. Sarò l'avvocato difensore del popolo italiano, ha promesso alla nazione nel suo primo discorso pubblico. Questo il commento dei suoi allievi. Secondo me se lo lasciano fare è una persona capace, poi bisogna vedere. Più di Conte mi spaventa il contratto di governo, il pareggio di bilancio, quindi sono queste le questioni che più mi stanno a cuore. Sono convinto che Conte, se è lasciato libero di agire, può fare del suo meglio. Alcide De Gasperi, quando la politica credeva nell'Europa e nella democrazia. Un titolo emblematico che racconta l'esperienza politica straordinaria del più grande statista italiano del Novecento è il libro fresco di stampa scritto da Beppe Matulli, esponente storico della DC e poi del Partito Popolare, già sottosegretario e vicesindaco di Firenze. L'opera è stata presentata ieri sera nella sala ovale della provincia. Il direttore Gianni Rossi ha intervistato Matulli al termine dell'incontro. Emerge un grande statista che ha una capacità di una lettura civile del messaggio cristiano come i valori della libertà, della uguaglianza e della solidarietà che porta avanti questo discorso in piena autonomia, che valuta le forze in campo, quindi con una grande capacità di analisi e delle forze politiche, delle forze sociali e delle difficoltà da superare e che riesce a guidare un paese nel periodo più drammatico che ha di fronte a sé, tenendo conto e superando tutti gli ostacoli che gli vengono messi di fronte. Qual è l'attualità dell'impegno, del messaggio di Alcide De Gasperi? Da un certo punto di vista bisogna dire che non c'è niente di più, di meno attuale. Perché? Perché De Gasperi aveva un'attenzione straordinaria alla politica internazionale che oggi invece sostanzialmente si subisce. Aveva una valutazione strategica dell'Europa, non dell'Europa senza sé, senza ma, come si direbbe in termini attuali, anzi di un'Europa che doveva crescere continuamente perché doveva avere una dimensione politica senza la quale non sarebbe stata, non dico utile, sarebbe stata utile ma non sarebbe stata importante come doveva essere un'Europa che per esempio per lui doveva avere una Costituzione che non ha ancora l'Europa. Poi c'era un'importanza straordinaria delle istituzioni, non come terreno di scontro fra le forze politiche ma come garanzia dell'autonomia dei singoli, delle formazioni sociali, delle forze politiche, delle forze territoriali, della stessa concetto e idea di nazioni. Poi c'era un'attenzione al popolo straordinaria, non c'è un discorso di De Gasperi in cui non si dica che il popolo in democrazia non può soltanto votare, deve essere consapevole delle scelte che fa. Non mi pare che siano cose che oggi sono all'ordine del giorno. Dati positivi per l'artigianato. Il settore, stando agli ultimi dati Istat, segna a livello nazionale un più 4,3%, risultato che si riflette anche a livello locale. Le aziende sono tornate a lavorare con una certa continuità e anche ad assumere. Cresce la vitalità delle aziende a livello nazionale. Stando agli ultimi dati Istat, nei primi tre mesi del 2018 la produzione dell'artigianato segna un più 4,3%, la migliore performance dalla fine del 2010. Tra i settori con maggior presenza di imprese artigiane trainano l'abbigliamento del metallo. In crescita anche il settore riparazioni e installazione macchinari. Noi infatti constatiamo con grande soddisfazione e piacere una vitalità nelle aziende, in particolar modo nel manifatturiero. Vorrei ricordare che il manifatturiero in Italia è l'ossatura di quella che è la nostra economia, dove circa il 95% delle imprese sono imprese di piccole e medie dimensioni. Quindi la vitalità che queste stanno dimostrando è confermata dai numeri, ma è soprattutto confermata dalla richiesta di mano d'opera. Una richiesta di mano territorio sta trovando difficoltà ad essere esaurita. Le aziende tornano quindi a lavorare con una certa continuità, ma soprattutto ad assumere e investire. Le richieste aumentano, ma la ricerca del personale da impiegare nel settore manifatturiero non sempre è semplice. Non abbiamo ben capito se le persone non rispondono perché i settori in cui viene richiesta questa mano d'opera sono settori non considerati ormai importanti, non considerati settori di interesse per chi cerca lavoro. Noi riteniamo che sono settori dove il nostro distretto, la nostra città si è impegnata e ha fatto la sua fortuna e ha sviluppato la sua crescita, per cui pensiamo che il manifatturiero debba essere sempre un settore da tenere in grande considerazione. Sicuramente c'è necessità non soltanto di un lavoro mentale, ma anche di un lavoro fisico. Chiara poi la richiesta a nuovo governo, la cui formazione è alle porte. Non abbiamo preclusioni e preconcetti sulla matrice politica, dicono a gran voce dalla sede di Viale Montegrappa, ma valuteremo il nuovo esecutivo in base ai programmi e ai risultati concreti. Ci interessa quelli che sono i contenuti dei programmi, ma ci interessa soprattutto come questi programmi saranno realizzati e se saranno realizzati. Certo dispiace constatare che mentre a livello nazionale c'è un fervore, c'è una crescita, poi si debba constatare una ricaduta di costi date da un'incertezza nella formazione del governo, da pregiudizi forse. La festa della Polizia Penitenziaria quest'anno si è svolta alla Rocca di Montemurlo. La situazione di sovraffollamento della casa circondariale della Dogaia, aggravata da una carenza di organico degli agenti, quest'anno sembra rientrata. La Polizia Penitenziaria festeggia il suo 201esimo anniversario alla Rocca di Montemurlo. La tradizionale festa del corpo è stata celebrata con una cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari della provincia pratese. Sono 230 gli agenti in servizio nella casa circondariale della Dogaia per un totale di 622 detenuti. La carenza di organico è stimata intorno al 30% nel carcere pratese, che nell'ultimo anno è stato al centro di numerosi fatti di cronaca dovuti al sovraffollamento e ai conseguenti disordini che in più di un caso hanno attentato alla salute degli stessi poliziotti. L'anno scorso alla festa annuale partecipò solo una trentina di loro, gli altri disertarono come forma di protesta per una situazione divenuta insostenibile. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno difficile dal punto di vista della gestione interna perché la chiusura del carcere di Pistoia ha comportato un aumento della popolazione detenuta. Devo dire che negli ultimi tempi la situazione è sensibilmente migliorata sia dal punto di vista del numero dei detenuti ospitati sia dal punto di vista del clima interno di gestione. Quello che accade al carcere per noi è stato funto di preoccupazione, adesso la situazione sembra migliorata ma bisogna assolutamente continuare a monitorare, abbiamo bisogno di rinforzi anche dentro il corpo della polizia penitenziaria che fra l'altro è uno dei mestieri a più in alto burnout, a più in alto rischio di essere colpiti da quella sindrome dal lavoro che per chi lavora in un luogo così complicato spesso purtroppo accade. Sono numerosi i progetti che vengono portati avanti all'interno della dogaia per il rinserimento lavorativo dei detenuti. Tra questi in collaborazione con la Caritas Diocesana e l'Istituto Datini l'allestimento della cucina che attiva da settembre consentirà il perfezionamento degli studi alberghieri. Presente anche il prefetto Rosalba Scialla che a margine della cerimonia ha offerto degli aggiornamenti riguardo all'ordinanza in vigore dal 26 aprile sulle aree cittadine off limits per i pregiudicati. Diciamo che sta andando abbastanza bene perché ancora un bilancio non è possibile farlo però sono stati effettuati molti controlli e sono state fermate molte persone. Non è stato ancora adottato alcun provvedimento però perché bisogna ricontrollare ancora se ci sono, persisteranno queste presenze di pregiudicati, allora sì potrei essere messo un provvedimento. Presentato il cartellone della Prato Estate 2018, oltre 200 eventi disseminati in 15 luoghi della città da giugno ad agosto. Nell'ambito della rassegna anche un rincontro con Carlo Verdone al Castello dell'Imperatore. Carlo Verdone sarà al Castello dell'Imperatore il 15 giugno per incontrare il pubblico ed essere insignito di un premio speciale della città di Prato. Si tratta dell'evento di punta del cartellone della Prato Estate 2018 che torna ad animare i mesi da giugno ad agosto in una vera e propria staffetta col Festival del Settembre. Oltre 200 eventi disseminati in 15 luoghi della nostra città tra musica, teatro e incontri, quasi tutti a ingresso gratuito. Complessivamente ammonta a 262 mila euro il costo della manifestazione organizzata dal Comune di Prato. L'anno scorso erano 180 mila. Manifestazione che quest'anno ingloba una serie di anniversari importanti tra cui quello di Officina Giovani. Il compleanno di Officina Giovani ci sarà l'8 di giugno con Shade, rapper molto caro ai giovani e ai giovanissimi e in generale una giornata che inizierà alle 4 del pomeriggio e si concluderà a notte fonda. A proposito di anniversari poi avremo le manifestazioni per i 120 anni della nascita di Malaparte che saranno presentati successivamente ma un'anticipazione la posso dare e tornerà con La Pelle che poi è il romanzo più importante di Malaparte con lo spettacolo sulla pelle Marco Baliani il 23 luglio in corte delle sculture in Campolmi. In occasione del trentennale delle attività il Centro Pecci ospiterà un programma di eventi in collaborazione con la Prato Estate e dopo le disavventure dell'anno scorso con la commissione di pubblico spettacolo l'arena torna ad essere lo scenario di concerti dal vivo. Dal 23 giugno al 13 luglio si avvicenderanno artisti come Io sono un cane Paolo Angeli, Calexico e Fra Quintale. Tra i luoghi della Prato Estate quest'anno ci sarà anche la corte di Palazzo Datini dove il 20 e il 21 giugno si svolgerà uno spettacolo teatrale incentrato sul mercante pratese nel nome di Dio e del quattrino e non può mancare l'ormai tradizionale corte delle sculture della Biblioteca Lazzerini. Corte delle sculture, moltissimi concerti dal jazz, la musica pop e cantautori nuovi come Zibba, Maldestro, Jack Giaselli. La Prato Estate sarà uno dei temi al centro del settimanale Parliamoci Chiaro in onda questa sera. Per saperne di più passiamo la parola a Giancarlo Gisonni. Sì grazie Serena, non soltanto Prato Estate, le anticipazioni del Festival Settembre Prato e spettacolo, la pala grossa quest'anno in Piazza del Mercato Nuovo, una decisione che non piace agli ambulanti e poi con l'estate si ripropone come sempre il dibattito sulla Movida. Questa sera ci collegheremo in diretta con il centro storico, con i locali e le strade del centro per affrontare anche questo tema. In studio l'assessore alla cultura Simone Mangani, il presidente di Confeso Centi, Mauro Alassi e il direttore di Confcommercio Pistoia Prato, Tiziano Tempestini. A più tardi. Grazie a Giancarlo Gisonni. Noi rimaniamo in tema. Tutto pronto per il concerto dei The Sun a Prato. Domani alle 21 il gruppo è teso al Teatro Politeama su invito della Caritas per un altro evento pensato per i giovani. La Christian Rock Band italiana più nota al momento ha scelto Prato per iniziare il suo nuovo tour ogni benedetto giorno, promosso per festeggiare i 20 anni di carriera. Uno show elettrico durante il quale verranno riproposti molti brani tratti da tutta la discografia del gruppo, arricchiti con dialoghi, monologhi e video. Lo show è gratuito per chi fosse interessato ad avere gli ultimi biglietti disponibili può visitare il sito www.eventbrite.it. Il concerto è inserito all'interno del programma promosso dalla diocesi di Prato verso il sinodo 2018, giovani in cammino per mille strade. In occasione del mese Mariano le parrocchie Santi Giusto e Clemente a Faltugnano e San Leonardo in Gamberami organizzano la processione au flambeau, l'appuntamento con la suggestiva processione con le fiaccole per domani alle 21.15 con partenza dalla chiesa di San Martino a Fabio e arrivo nella chiesa Santi Giusto e Clemente a Faltugnano. La processione sarà preseduta dal parroco di Vaiano Don Marco Locati, sarà presente anche il sindaco di Vaiano Primo Bosi. Cala il numero delle perdite e sale la cifra degli investimenti. Stasera ad intorno alle 9 si parla di acqua col vicepresidente di Publiacqua Simone Barni. Tra i temi affrontati anche quello delle tariffe. La rete idrica fratese perde molto meno. Noi un paio di anni fa immettevamo 1.050 litri al secondo, adesso siamo a 780, quindi un recupero veramente straordinario dovuto alla lotta che abbiamo fatto alle perdite, soprattutto alle perdite occulte, anche attraverso l'uso di tecnologie nuove, come ad esempio l'uso del satellite. Abbiamo trovato 1.013 perdite occulte, quindi un'enormità che ha consentito attraverso una massiccia opera di rifacimento anche delle tubature cittadine, ha consentito questo risparmio di acqua veramente importante che va anche oltre le nostre previsioni, insomma i dati sono veramente sorprendenti da questo punto di vista. Non sono qui per fare promesse, quindi non prometterò che le tariffe scenderanno perché non è che ci possiamo tutte le stati raccontare che mancano gli investimenti, dobbiamo fare più investimenti e però poi vogliamo che le tariffe scendano. Siccome gli investimenti sono pagati con le tariffe c'è poco da fare, o si fanno gli investimenti o si tagliano le tariffe, delle due l'una. Consiag Servizi provvederà nella notte all'abbattimento di un'alberatura di platano presente in via Strozi, nel tratto adiacente l'intersezione con via Porta al Serraglio, lato Ferrovia. Ferrovie italiane ha richiesto l'intervento di abbattimento dell'alberatura in quanto troppo vicina alla linea ferroviaria e a cavi elettrici di alimentazione dei binari per permettere lo stazionamento dei mezzi e l'esecuzione delle opere. È previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 22.30 di stasera fino alle 4.30 di domattina in via Strozi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Porta al Serraglio e il Civico 12. Al via domani la 27esima edizione della Europe Cup Under 12 Memorial Sergio Castelletti, prestigioso torneo di calcio giovanile che si disputerà anche al campo sportivo del Coiano, Santa Lucia, Massimiliano Masi. Ci siamo! Si sta per alzare il sipario sulla 27esma edizione della Europe Cup Under 12, prestigioso torneo di calcio giovanile riservato ai piccoli amici nati nel 2006. Il format del torneo è stato completamente rivoluzionato. È stato infatti inserito un primo turno di qualificazione che si giocherà venerdì 25 maggio e nel quale si sfideranno blasonati club professionistici italiani ed europei ed importanti realtà dilettantistiche accuratamente selezionati dall'organizzazione. Le prime due classificate ciascun girone di qualificazione giocheranno la Europe Cup Under 12, mentre le altre squadre saranno inserite nella Coppa Italia Open Under 10. La Europe Cup è giunta alla 27esima edizione e in effetti sta spostando anno dopo anno il suo baricentro sempre più su Prato grazie al coinvolgimento di alcune importanti realtà calcistiche di questo territorio. Quest'anno insieme al Coiano avremo anche coinvolte nel comitato organizzatore Maliseti e lo Zenit Audax. Le 28 squadre fidaranno sportivamente battaglia sui campi di Sesto Fiorentino, La Strassigna, Prato Santa Lucia e Firenze Castello dal venerdì 25 maggio fino a domenica 27, giorno in cui è prevista l'attesissima finale. Il terzo anno il Coiano Santa Lucia collabora a questa prestigiosa iniziativa, questo torneo internazionale stia spostando sempre più il proprio baricentro a Prato, anche con l'intervento e il sostegno di altre società molto significative e importanti, nostre amiche quali la Zenit, la Maliseti Tobbianese, rendendo così sempre di più questo torneo fruibile anche dal nostro territorio. Quest'anno daremo il supporto con la partecipazione della nostra squadra e ospitiamo i bambini presso le nostre famiglie. Credo sia per noi un punto di partenza, speriamo un altro anno di poter ospitare qualche partita del circuito. Adesso la parola passa al tappeto verde, ne vedremo delle belle. E ora il basket. La Sibeprato cozza contro la Fides Montevarchi e dice addio alla promozione nel campionato gold. Dragons ancora rimaneggiati, sconfitti dai valdarnesi anche in gara 4, con il risultato di 79 a 53. Montevarchi chiude la serie sul 3 a 1 e conquista meritatamente la promozione. La Sibida al canto suo esce a testa alta da una stagione travagliata per i tanti infortuni subiti, ma comunque positiva. Quella di ieri è stata l'ultima gara di Capitan Corsi che chiude la carriera con ben 620 presenze. E' il momento di andare a scoprire tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni con la nostra agenda. Domani alle 18 alla Biblioteca Lazzarini presentazione della mostra e del relativo catalogo Inclusioni d'Arte, realizzata al termine del Laboratorio di Informatica promosso dall'Istituto Scolastico Rodari. Alle 21 al Teatro Politeama a De Sane in concerto nell'ambito del ciclo di iniziative promosse dalla Diocesi in vista del Sinodo dei Giovani indetto da Papa Francesco. Sempre alle 21 alla Scuola di Musica Giuseppe Verdi nell'ambito della 39esima edizione della rassegna concerti di Primavera, concerto del pianista Cesare Castagnoli che eseguirà musiche di Chopin. Ed eccoci anche alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani venerdì. Pressione in aumento sul Mediterraneo centrale con una instabilità che invece permane sul settore più occidentale e sulla Gran Bretagna. Andiamo quindi a vedere il tempo previsto per la giornata di venerdì, una giornata che in mattinata sarà caratterizzata dalla prevalenza di bel tempo, anche se addensamenti di tipo basso, potranno interessare nella prima parte della mattinata il valdarno medio ed inferiore con qualche banco di nebbia o foschia nei fondovalle più interni. Tutto in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio prevalenza ancora di cielo poco nuvoloso con addensamenti in appennino ma basso rischio di isolati e brevi rovesci. Le temperature sono destinate ad aumentare con massime fino a 27-28 gradi. Per quanto riguarda i mari sono poco mossi e i venti deboli. Sguardo anche alla giornata di sabato, una giornata che vedrà ben poche variazioni, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica e in prossimità della miata. Venti deboli di bellezza, mari poco mossi, continuano a salire le temperature fino a massime di 28-30 gradi. Bene è tutto, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione per domani alle 13.45. Vi lasciamo adesso a intorno alle 9 a seguire il settimanale di attualità. Parliamoci chiaro. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie. Grazie.